Da sempre, come Cambio Networks Italia, volevamo comunicare alla nostra comunità di partner, ma anche agli utenti finali, quindi sia i nostri clienti e sia i nostri futuri clienti. Lo strumento blog in italiano ci permette di essere molto più vicini alla comunità e molto più vicini sia dal punto di vista proprio di comunicazione legata alla tecnologia e ai prodotti, ma anche ai mercati verticali. All'interno del blog troveremo varie categorie, la categoria hospitality, la categoria retail e enterprise, la categoria Wi-Fi4EU, pubblica amministrazione e videosorveglianza, una serie di casi di studio, un sacco di belle referenze, eccetera. Ma la cosa più importante è che comunicheremo settimanalmente con le novità, quindi avremo sia a disposizione delle informazioni legate al canale, le promozioni, piuttosto che certe campagne specifiche, ma anche magari delle novità più di mercato, i trend, le reportistiche, i dettagli sugli analisti, eccetera. Abbiamo messo in piedi una bella squadra di giornalisti, di blogger e di influencer che insieme collaboreranno con noi per comunicare nel modo giusto al mercato italiano.